presentati ciao sono Tommy, degli All Boogies, Marcello e Stefano hai mai lavorato nel mondo dello spettacolo? ma si, dunque abbiamo fatto vari provini in giro fra cui ho partecipato a X Factor abbiamo partecipato come gruppo a una manifestazione canora siamo arrivati anche primi facciamo serata in giro se ne avessi la possibilità, cosa ti piacerebbe fare? beh, indubbiamente quello che vedi in questo momento ci piacerebbe suonare, suonare, suonare adesso vi proporremo Sweet Chariot è una bellissima canzone, è un gospel, di origine gospel è una canzone con una matrice nostra riadattata comunque siamo lieti di farvela sentire grazie a tutti grazie a tutti I'm going to sit down for half a third and a second I turn in the morning and it's a very good day I have a soul of a very good day And it's the morning of the crazy my prayer I won't just sing a sweet cherry star Tell me right, sing that cherry star Tell me right, rock it all, rock it all I run easy, I run easy I go and sing, 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 sing I'm going to sit down for half a third and a second I'm going to sit down for half a third and a second I turn in the morning and it's a very good day I'm going to sit down for half a third and a second Tell me right, sing that cherry star Tell me right, rock it all, rock it all Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti